Antanas Mogus è un professore colombiano di origini lituane che negli ultimi decenni ha giocato in modo pubblico con una sua passione privata che è la sperimentazione sociale. È un intellettuale che si è formato in Francia immediatamente dopo il 68 e che in un certo senso ha preso questa formazione accademica post-68 quindi di fantasia al potere e anche di un certo coraggio nello sperimentare delle situazioni nuove e le ha adottate con alterne fortune in Colombia. Prima a Bogotà, è stato due volte sindaco della capitale e poi in tutto il paese quando ha tentato nel 2010 di portare alla presidenza questa filosofia basata su una massiccia dose di pedagogia. I messaggi educativi di Mocus si caratterizzano per essere sempre piuttosto chiari, diretti. A volte possiamo avere l'impressione che siano anche troppo diretti ma ci dimentichiamo comunque sempre che si rivolge a una platea ideale di una società di scarsa alfabetizzazione. Quindi nel caso del 2010 è partito da un punto fondamentale anzi da due punti fondamentali che sono la vita e Saka e l'altro messaggio era le risorse pubbliche sono sacre. Grazie di Baris Grazie Siamo un Presidente, che vive, se sente, come un Presidente. Siamo unidos, nos une la regione, la pinta, la raza e il mondo del sabon.